avevo il desiderio di provare questo gioco da secoli praticamente mi son comprata la ps4 per questo questo è the last of us ovviamente uno remastered non ho mai aperto il gioco l'ho solamente settato quindi non so assolutamente nulla cioè sì ho visto un pochino il gioco da altri ma io personalmente non l'ho mai giocato quindi ora staremo a vedere un po come va allora non vedete la mia webcam ragazzi prima cosa perché darebbe impiccio seconda cosa perché preferirei visto che io sto usando la riproduzione remota preferirei guardare il televisore piuttosto che lo schermo del pc quindi cercherò di avere un occhio al pc un occhio alla play perché mi rimane più comodo così ragazzi perché altrimenti dovrei guardarlo da pc ma la risoluzione non è mai come quella del televisore quindi ne peccherebbe un pochino tutta l'esperienza di gioco io adesso stoppo la musica perché non voglio sottofondi sotto della stovasa ragazzi assolutamente me lo voglio godere fino all'ultimo si tommy 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 ascoltami è il comitente è lui il comitente non posso perdere questo lavoro sì lo capisco ma ok ne parliamo domattina ok ne parliamo domattina sì ciao ehi fatela ecco un giornatone al lavoro eh che fai ancora sveglia è tardi oh cavolo che ora è dovresti già essere a me ma è ancora oggi tesoro ti prego non ora non ho la forza di fare nulla tieni che cos'è il tuo compleanno ti lamentavi del tuo vecchio orologio così ho pensato che ti piace ciao adi tesoro e è stupendo credo che sia rotto cosa no 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 ah ah dove hai preso i soldi per questo droga vanno forse le droghe pesanti ah bene allora puoi iniziare a aiutarmi col mutuo si ti piacerebbe quanto si vede la differenza ragazzi con The Last of Us 2 mamma mia niente a che vedere ragazzi ho messo i sottotitoli ragazzi perché se tante volte non si capisce quello che dice almeno potete leggere sotto lo leggo pure io poi eh personalmente ecco niente di buono pronto Sara tesoro corri a chiamare papà Sio Tommo chi sono? devo parlargli ci sono dei Sio Tommo pronto ecco è successo il disastro ah ok mi devo muovere eeeh cosa voleva dire? eh che cosa voleva dire secondo te? ok ovviamente ragazzi mo c'è tutto il tutorial perché logicamente papà papà dove stai? papà papà che fine ha fatto papà? ti sei perso papà? ehi sei qui ehi sei qui ehi sei qui secondo le segnalazioni le vittime dell'intenzione mostrerebbero segni di crescente aggressività e a quanto pare alle nostre spalle stacca ah la miseria cosa è stato? oddio ho detto pure io oddio andiamo bene raga papà papà non mi fa più i corpi eh ma che succede? eh mo chiedo pure io ciccio papà te sei perso? lì c'è il suo telefono qua c'è qui il telefono papà 8 chiamate senza risposta a posto chiamami papà è scomparso sto arrivando ok raga se non lo mollavo rimanevamo col telefono in mano 8 secoli non la posso aprire la porta papino ehi ecco ti qui stai bene? si è entrato qualcuno ma ha fatto piano infarto però va bene non avvicinarti alle porte resta indietro e chi si avvicina? io sto qua papà mi stai spaventando che succede? sono in recupero chi? c'è qualcosa di strano forse sono malati come malati? oddio jimmy papà tesoro qui vieni jimmy ha fatto bene un colpo raga ciao fra ciao vinci vai vai ragazzi se vede meglio a voi camminano troppo mi hai sparato l'ho visto stamattina ascoltami sta succedendo qualcosa di brutto dobbiamo andarcene da qui mi hai capito? eh si ma sta a faffa sotto papà dai hai idea di cosa stia succedendo? no ne ho una vaga idea porca troia sei coperto di santo salve salve a tutti ragazzi metà della gente della città ha perso la testa possiamo andare via è una specie di parazzita ah ok con questo avvicino mi dici che è successo più tardi ehi Sara come va piccolino? ragazzi perdonatemi se tengo il tutorial almeno per i primi momenti ma a me serve per capire i tasti ragazzi non so quello che devo preme grazie perciò se vedete apparire la cosa dei tasti non vi preoccupate grazie va sempre bene prima il giornalista non la finiva più ha detto dove andare ha detto... l'esercito sbarra l'autostrada la coltà di Travis è inaccessiva significa che dobbiamo andarci su questo sto d'accordo con te ok quanti sono morti? forse tanti hanno trovato una famiglia fatta a prendere tozzi in casa già scusa ho tolto i suoni di sistema ragazzi così non mi rompono le scatole merda come è successo? non ne hanno idea non siamo l'unica città all'inizio dicevano che era il sud e ora parlano della costa est porca troia ammazza zio Tommy come guidi spero sia riuscito a scappare non ne sono certo se se siamo malati? oh certo che no dicono che siano le persone in città lui no hai ragione è così siamo a posto fidati ok io non mi fido però oh mazza che pizzo hanno una bambina? anche noi non abbiamo spazio tira dritto Tommy fermi sai cosa ho visto passerà a qualcun altro no ti fanno a vedere Sara fai la brava bambina su no direi di no non ti ho la stessa cazzo di idea beh si può fare marcia indietro ehi che cazzo amico andiamo no 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 Tommy porca troia corri Tommy corri Tommy cosa cazzo è successo? cosa cazzo è successo? hai visto? sì ho visto attrazione gira qui gira qui forza andiamo da cosa scappano? andiamoci via ci provo non possiamo fermarci Tommy non posso passarmi sopra torniamo indietro ce ne sono anche dietro la 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 aspetta vai attente porca vacca papà ehi ehi cosa? torna indietro indietro sto gatto devo rompere il vetro raga ok bravo ciccio sono qui forza dammi la mano che c'è? la gamba fa male fa male dobbiamo correre tu tienici al secondo sono piccola tienti forte mo io devo correre mammanaggia eh ho capito però mai fa capo ta ehh vabbò ti ho capito che ne vedi che ne vedi ho capito i vecchi continui a correre continua a correre per se questo non c'è attenzione non guardare sana ah oh ma questa mi si ferma sempre davanti continuo a guardare il mio tico corri forza corri di qua eh vabbò ne usciremo eh glielo prometti però figlia di dio ok che bordello sono troppi da questa parte nel vicolo se se ne veno ok bravo ciccio assolida che paura regà è morto ci siamo quasi quasi piccolina corre muovetevi trovate una via di uscita forza Gioe eh ci sto ciccio sembra dare tempo grazie vai all'autostrada vai tu hai Sara io li semido ti vediamo lì ciao Druk come stai? ah scusate regà ciao ci siamo quasi